Quando in Italia si parla di treni ci sono due ragioni. O Ferrovie dello Stato ha combinato uno dei suoi solidi danni, oppure c'è qualcosa di spettacolare da vedere. Ebbene sì, il Retian Railway ha realizzato il nuovo record del mondo per quanto riguarda la lunghezza di un treno passeggeri con i suoi 1,906 km. Un treno lungo, lungo, lungo e rosso, 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 partito dalla Svizzera lo scorso 29 ottobre alle ore 14. Un treno composto da 100 carrozze rosse di 25 unità Capricorn, più locomotiva per un peso che superava le 3.000 tonnellate. E ha attraversato questa tratta che è patrimonio dell'UNESCO, una tratta di 25 km, sulle Alpi Svizzere che unisce Preda, tunnel dell'Albure e arriva al viadotto Landbasser. E il tutto sotto gli occhi di migliaia di visitatori appassionati che hanno potuto godere di questa incredibile meraviglia. In un paesaggio quale quello svizzero che, di meraviglioso, ha veramente tutto. E per l'invidia un po' di coloro che non sono riusciti ad accapararsi quei biglietti. E voi avete mai provato un treno lungo, lungo, lungo come quello svizzero? Fatecelo sapere.